ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono alex z e oggi siamo in un nuovo gitmatch moddato su gt online ragazzi è un gitmatch molto stupido però è molto carino voi volete festeggiare al meglio in natale su gt online allora ragazzi dovete fare questo gitmatch che vi farà vedere alberi di natale infiniti praticamente in una cattura per farlo chiaramente vi metterò il link in descrizione andate su start online ospa attività preferite catture e l'attività si chiama guerra bollas de nieve voi cliccate e adesso ci vediamo nella sala d'attesa ed eccoci ragazzi nella sala d'attesa allora noi mettiamo tutti i punti perché sennò durerebbe molto metto al giorno sereno mettiamo a posto tutti più raccogliibili un round qua scegliete voi acquistiamo tutto e ragazzi invitiamo chiaramente un amico e noi ci vediamo nell'attività ed eccoci ragazzi nell'attività innanzitutto saluto zumbo10 che sarebbe pepe gamer su youtube per aver partecipato con me in questo gitmatch guardate ragazzi gli alberi di natale noi mettiamo a devastare tutti guardate ragazzi gli alberi sarebbero quelli che ci sono praticamente al centro del paese dove c'è l'attività di michael che vede i pagliacci ammazziamo tutti ragazzi guardate gli alberi davvero carini qui ragazzi se volete festeggiare il natale fate questa attività così vi sentirete più natalizi come dire ragazzi volevo anche dirvi che il video del raduno l'ho editato però purtroppo mi chiede tantissimo tempo per caricarlo e quindi cercherò di caricarlo quando avrò tempo anche se è mostro arrivando i 400 iscritti però lo devo comunque caricare mi scuso con voi e arriverà anche più presto a più presto il video dell'elgato dell'unboxing dell'elgato praticamente quindi ragazzi poi per uscire da questa attività dovete ovviamente prendere la valigetta però ragazzi davvero carino con tutti qui gli alberi questa attività ovviamente è del noto modder carlos code hd infatti c'è scritto anche sotto ringrazio ancora jumbo 10 che ha partecipato con me a questa attività che è della mia crew e lo saluto ovviamente ok adesso andremo a prendere la valigetta per concludere ragazzi però comunque se volete farla con i vostri amici io ve la consiglio di fare perché comunque è molto divertente ragazzi io vi ricordo di lasciare un like iscrivetevi al canale condividete il video e lasciate un like sulla pagina facebook dove mi potete chiedere tutte le cose che volete e ragazzi da Alex di è tutto noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale